Universiadi è una questione di Luca Palazzo Chigi. A margine della presentazione del torneo di tennis Fit Kinder Sport, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha annunciato massima disponibilità e attenzione per l'evento delle Universiadi di Napoli 2019, invitando ad un dialogo e ad un confronto aperto il presidente della regione Campania e il ministro dello sport, Luca Lotti. Il CONI, come tu sai bene, gli addetti lavori sanno, fa tante cose, ma non può certo finanziare un grande evento. Noi mettiamo tramite le federazioni il supporto tecnico, il know-how organizzativo, le interlocuzioni con gli organismi internazionali, in questo caso la federazione che rappresenta gli sport universitari. E quindi se ci sono dei numeri o dei fondi che mancano, una partita che devono giocare il governo col governatore De Luca. E poi sulla base di quello che sono i budget fare un programma il migliore possibile. Malagò sarà a Napoli anche per la gara di ritorno degli ottavi di Champions tra gli Azzurri e il Real Madrid. Un grande spettacolo con l'obiettivo e la speranza di vivere questo tipo di match in strutture sempre più all'avanguardia, possibilmente senza barriere. La mia posizione la conoscete, ovviamente noi tifiamo che si possano levare, ma ovviamente solo se si sentono garantiti i soggetti preposti, in questo caso le autorità istituzionali che hanno l'ordine pubblico.